Negli anni 80 Suzuki, con la Katana, stravolse il mondo motociclistico, mettendo al primo posto il design. La Katana 2019 mantiene questa idea di approccio alla creazione di una moto, aggiornando le sue linee però ad un'impronta stilistica più moderna. Il nome scandisce sempre l'importanza del richiamo all'arma giapponese, delineando con forme taglienti e affilate l'aspetto della moto, che sembra poter fendere l'aria. Il mondo orientale lo ritroviamo non solo nella forma, ma anche nella filosofia con la quale è stata riprogettata la nuova Katana. Il rapporto tra pilota e mezzo è diventato ancora più intimo, con l'intento di trasformare la moto in un'estensione del corpo stesso. La sella più alta e il manico allargato le donano maneggevolezza e comodità, mentre sotto le carene, per facilitare il lavoro, Suzuki ha deciso di utilizzare il motore da 150 CV e la ciclistica della GSX-S1000. Una delle nude più apprezzate ed equilibrate degli ultimi tempi, che le donano una sorprendente agilità nel misto stretto. Motore che è stato reso più docile, grazie ad un'erogazione fluida che la rende più facile ma meno esplosiva sui bassi regimi. L'elettronica c'è, ma solo lo stretto necessario, ovvero l'ABS a due canali ed un controllo di trazione regolabile su tre tarature e disinseribile, per rendere l'esperienza di guida più punta.